ciao a tutti oggi prepareremo la pasta al vino il tempo di preparazione della ricetta è di circa due minuti gli ingredienti sono vino bianco olio sale e farina andiamo via la ricetta iniziamo mettendo nel boccale il vino bianco e l'olio e andiamo a emulsionarli per 10 secondi a velocità 4 adesso aggiungiamo la farina il sale e impastiamo per un minuto a velocità spiga il nostro composto è pronto adesso lo andremo a compattare formeremo una palla la nostra pasta al vino è pronta per essere stesa e utilizzata per torte salate o rustici per aiutarvi potete stenderla tra due fogli di carta da forno e dopo averla stesa è possibile anche congelarla e uscirla dal congelatore quando vi serve pasta al vino grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti